Sorprendono molte delle iniziative avviate da parte di questa amministrazione comunale. La prima che ha lasciato una ferita e una cicatrice che rimarrà a vita è quello dello spostamento nel chiosco al centro della piazza che di fatto ha ostruito la vista del mare, ha eliminato un paesaggio straordinario che si poteva godere dalla piazza stesso. Il raddoppio di un albergo sulla faglia da Citrezza e la vicenda delle strisce blu che è paradossale e preoccupante dove il sindaco chiede e ottiene sotto forma di regalia dalla ditta che aveva in gestione la concessione in appalto della sosta nel territorio castellese quattro abbonamenti per le quattro frazioni, cosa peraltro vietata dal regolamento che consente al cittadino di avere un solo abbonamento per frazioni nell'ambito del territorio per parecchi mesi senza pagare nulla. È una cosa obiettivamente preoccupante, sorprendente come un amministratore possa chiedere una cosa e soprattutto come la ditta che ha in appalto la gestione possa concedergliela, ma questo è successo nel comune e questo stiamo raccontando. E questo è solo un dettaglio perché poi la storia continua? La vicenda si è poi complicata successivamente all'interrogazione dei consiglieri comunali di opposizione che hanno scoperto questa situazione fino al punto che il responsabile del procedimento e il funzionale è stato costretto, vista le carte, a dover sottoporre alla Procura della Repubblica due ipotesi di reato, un amministrativo e uno penale di cui ancora non conosciamo gli esiti, quindi è una vicenda preoccupante e naturalmente grave. Come se ciò non bastasse, a fine anno del 2020 l'amministrazione comunale, credo direttamente il sindaco protempore, emana un atto di indirizzo al comando della Polizia Municipale dove dice fermate la gara d'appalto che sarebbe stata quella trasparente, pubblica e valutate un progetto di finanza per la sosta nel territorio che vale credo 7, 8, 10 anni e Guardacasa era presentato anche, ed era una buona parte, dalla stessa ditta che aveva in gestione la sosta nel nostro territorio, è paradossale, io mi sarei astenuto dal ricordare di questo progetto, ma questo è successo e si sono persi parecchi mesi per la valutazione di questo progetto di finanza che naturalmente è stato bocciato in maniera netta, drastica, proprio per i contenuti che avrebbero pesato e gravato sulle spalle dei cittadini, 4 mila sanzioni, ne dico soltanto una delle vicende bizzarre, strane, sanzioni al mese per mantenere il conto economico in pareggio, si immagini sarebbe stato un salasso per i nostri cittadini e quindi il tempo che si è perso ha aggravato la situazione e ancora dopo un anno il comune 10 Castello non ha un sistema della sosta efficiente, efficace e sicuro, perché la sosta negli stali blu non è soltanto il problema del pagamento, è anche l'ordine, la sicurezza e il fatto che si allontanano i parcheggiatori abusivi, il nostro territorio è un territorio appetibile, vedremo quindi quest'estate cosa accadrà, quindi una grande confusione oltre a un danno economico finanziario di moltissime centinaia di migliaia di Euro che ha causato un disastro per le casse del comune 10 Castello. Ma un disastro che poi si riflette chiaramente anche sulla qualità di vita dei cittadini, sulla possibilità di fare dei lavori, di poter intervenire sul territorio e migliorarlo? Sembrerà strano perché i cittadini pensano che pagando sia un obulo che danno chissà chi, ma l'obulo che viene dato al comune serve praticamente a migliorare la condizione dei servizi nel territorio e qualora mancano migliaia di Euro dal bilancio, queste attività di miglioramento dei servizi o di iniziative nuove nel territorio non vengono fatte, quindi è il cane che si morde la coda. So soltanto che io 10 anni fa quando mi sono insediato e prima di me c'erano sempre quelli che governano, oggi avevo trovato un bilancio disastrato, sono riuscito a ristrutturare la condizione finanziaria del comune e adesso gli stessi che prima mi avevano fatto trovare un disastro o stanno provocando nuovamente i cittadini di Cicastello, quando lo capiranno speriamo non sarà troppo tardi. Qual è il sospicio per un territorio al quale le è legate? Uno scatto d'orgoglio, di dignità da parte della politica locale, del mondo delle situazioni, dei cittadini, io non credo che una cosa del genere possa passare inosservata insieme a tante altre che avremmo modo naturalmente di raccontare con dovizie di particolari, io non so come questa amministrazione possa ancora continuare a lavorare, nessuno chiede il conto di quello che sia successo, adesso lavoreremo con i consiglieri comunali di opposizione che hanno questa volontà proprio per farci spiegare cosa è accaduto e come intendono andare avanti, secondo me ed è veramente una cosa particolare, chi ha commesso iniziative così disdicevoli, così assurde, non dovrebbe avere la possibilità di continuare a governare un ente, un territorio così bello.